Buonasera, buonasera a tutti, bentornati sul canale di Solo Cose Fighe, sono sempre Anto, questa sera vi propongo Adidas Galaxy 3 Lea, una release del 2003, scarpa originaria nel design della fine degli anni 70, inizio anni 80, precisamente dovrebbe essere stato il 79. Andiamo velocemente a vedere la composizione di questa scarpa, pelle mista tra spazzolata e opaca, superficie della scarpa ricoperta completamente da questi fori per migliorare la reazione, comunque aumentano notevolmente anche il comfort, non troviamo nylon eccetto per i lacci, una linguetta decisamente comoda, molto molto confortevole, linguetta all'interno non staccabile, andiamo a vedere il tallone, rinforzo in pelle spazzolata e stessi colori riprodotti anche sulle strisce, strisce che purtroppo non riportano il nome del modello, ma comunque una riproduzione fedelissima della release del 79. Andiamo a vedere sotto, suola in doppia densità e così si presenta la suola con un disegno piuttosto geometrico. Buono il grip, indossate per pochi minuti, decisamente comode, molto molto confortevoli e introduciamo velocemente anche da questa sera un nuovo elemento, il peso della scarpa, che comunque è sempre interessantissimo andare a vedere quanto pesa ciò che calziamo e la bilancia riporta 306 grammi. bilancia piuttosto precisa, quindi una scarpa non iper leggera, ma decisamente leggera, una running per un appoggio non pesante. Adidas Galaxy 3 LIA, Made in Vietnam 2003, e anche per questa sera, dalle recensioni di Solo cose fighe, vi do la buonanotte e alla prossima recensione.